La Guardia di Finanza ha arrestato agli imbarcaderi di Villa San Giovanni un 46enne residente in provincia di Roma e diretto in Sicilia, mentre era alla guida di un'auto sulla quale erano nascosti 520 kg di hashish. La sostanza stupefacente contenuta in sei borsoni è stata trovata nel corso di una perquisizione dai finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni con l'ausilio di due cani antidroga. A tradirlo è stato il suo nervosismo che non è passato inosservato ai finanzieri, pertanto con l'ausilio di un'unità cinofila della compagnia a pronto impiego di Reggio Calabria l'autovettura è stata perquisita al fiuto dei cani antidroga. Siria ed Edin, altamente specializzati in operazioni del genere, hanno aiutato i militari a scoprire nei sei borsoni di colore nero panetti di hashish dal peso complessivo di oltre 125 kg. Al 46enne sono stati sequestrati anche due cellulari che saranno adesso esaminati nel tentativo di individuare le persone alle quali era destinata la droga.